Hanno atteso che in casa rimanessero solo i due coniugi, poi si sono presentati alla porta vestiti da carabiniere e addetto al servizio idrico. Stavolta però i due malviventi hanno dovuto utilizzare spray narcotizzante per stordire le due vittime, come ci racconta la figlia della coppia derubata. La cosa è accaduta verso le 11 la mattina e niente, è stato molto molto brutto perché più che altro hanno utilizzato un gas esilarante, quindi ovviamente solo che questi sono stati molto molto bravi perché uno era un operatore del Publiacque mi sembra e un altro era vestito da poliziotto, anzi da carabiniere e quindi questo della Publiacque è stato molto convincente, quindi mio padre l'ha fatto entrare in garage e probabilmente già lì gli ha spruzzato questo gas esilarante e nulla. E poi da lì, come ci hanno detto anche i poliziotti, una volta che poi sono dentro casa, da lì poi inizia lo sciore, nel senso che poi dopo possano fare quello che vogliono. Una volta intontito le due vittime con lo spray narcotizzante, i due malviventi hanno avuto tutto il tempo per girare casa, la ricerca di ori preziosi e soprattutto denaro. Infatti la storia è assurda perché appunto gli dicevano anche cose molto molto particolari, cioè tipo che c'era il Covid nelle tubature, gli hanno detto anche delle cose che a livello logico uno non potrebbe credere nemmeno. Quindi ovviamente è appunto perché erano stati comunque storditi. Come stanno i suoi genitori? Sono molto scossi, molto tristi, si sentono comunque presi in giro. Cosa è stato rubato nel furto? Addirittura le fede unziali e poi dei soldi che avevano così liquidi sui 5-6 mila euro circa.